Spazio Innovazione Ben ritrovato Alex, quest'oggi parliamo di Password, dramma dei nostri tempi e di questa era digitale. Ogni servizio che decidiamo di sottoscrivere ovviamente richiede almeno un nome utente ed una password. Se questo all'inizio dell'era digitale significava memorizzarne una manciata, oggi un utente possiede mediamente tra le 100 e le 150 credenziali sui siti più disparati. Davanti a noi quindi ci si pongono due grandi possibilità. Riutilizzare le password o inventarne sempre nuove. Riutilizzare è la tentazione più forte ma è molto rischioso. Vi sono casi continui di siti compromessi le cui credenziali sono state estrapolate e poi utilizzate per accedere ad altri siti. Ciò significa che potenzialmente le vostre password, una volta scoperte, sono riciclate per provare ad accedere ad altri siti su cui vi siete già registrati. In aggiunta poi, capita spesso di utilizzare password banali. Lo sapete quali sono due elementi della top 5 2020 delle password più utilizzate a livello globale? Password e 123456. L'alternativa più sicura quindi è quella di inventarne sempre nuove, una password per ogni sito. Ma come tenerne tracce? Mentalmente ovviamente è impossibile, per cui il mio consiglio di oggi è quello di utilizzare applicazioni chiamate password managers. Si tratta in breve di suite di applicazioni che vi permettono di gestire grossi volumi di credenziali associandole al loro sito di appartenenza e compilando spesso per voi nome utente e password nel momento in cui vi serve. Queste applicazioni di solito includono un'app per smartphone e per pc e anche delle estensioni per il browser del vostro pc in modo che siano loro ad accorgersi che si state visitando uno specifico sito e volete forse autenticarvi. Ve ne sono innumerevoli sul mercato ma seguendo lo spirito di questa rubrica, un occhio alla privacy, vi consiglierò due alternative libere e trasparenti. La prima si chiama Bitwarden, applicazione open source, la cui sottoscrizione facoltativa tra l'altro costa poco più di 10 euro all'anno e serve principalmente a sostenere il progetto. La seconda, se non volete mettere le vostre password nel cloud, si chiama KeePass, scritto KeePass e invece vi permetterà di gestire il vostro intero portafoglio di credenziali come un semplice file protetto e criptato che potete copiare e tenere con voi. Se proprio non volete utilizzare strumenti esterni, potete quantomeno cercare di dividere le password in cosiddetti livelli di sicurezza, adoperando le più complesse e il meno possibile, come ad esempio per l'accesso al conto corrente e quelle più semplici e più diffuse per i servizi diciamo più frivoli come potrebbe essere ad esempio il forum della vostra squadra di calcio preferita. Poiché in questo caso conta il risultato più che il modo, resta sempre attualissimo la scrittura su un caro e vecchio foglio di carta, mi raccomando però da custodire con gelosia. Se temete che una vostra utenza sia già stata compromessa, voglio segnalarvi infine la possibilità di verificarlo su appositi siti web. Il mio consiglio è monitor.firefox.com Se il vostro indirizzo mail è presente tra i risultati, cambiate subito la password su quel sito e possibilmente su tutti gli altri siti su cui avete riutilizzato la stessa password. Come sempre vi ricordo che tutti i link ad applicazioni e riferimenti saranno disponibili nella descrizione della puntata del podcast. Nel salutarvi e rimandarvi alla prossima settimana vi ricordo sempre, se non siete il cliente, siete probabilmente il prodotto.